Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Yasmin Carrisi si è seduta nello studio di Verissimo insieme al padre Albano, con il quale condivide un forte legame. Yasmin descrive il padre come una figura complice. Mi ha fatto scoprire nuove prospettive. Ho avuto un'infanzia meravigliosa. Non è eccessivamente affettuoso, ma ha sempre mantenuto un buon equilibrio. Yasmin è la prima figlia di Albano avuta con Loredana Lecciso. Il cantante, noto per essere molto riservato riguardo alla sua vita privata, ha spiegato come abbia sempre cercato di proteggere i suoi figli dai pettegolezzi. Quando crescevano, mi preoccupava che venissero etichettati solo come figli di. I primi quattro li ho mandati a studiare in una scuola americana dove nessuno sapeva chi fossero, mentre gli altri due sono riusciti a proteggersi da soli. Questo è molto importante per me, ha sottolineato il cantante, fiero dei suoi figli. Durante l'intervista, Yasmin ha rivelato di avere il desiderio di diventare madre, nonostante sia consapevole che potrebbe essere ancora presto. Vorrei farlo non troppo tardi, ha detto. Albano le ha consigliato di laurearsi prima, concentrarsi sulla carriera e, solo quando sarà pronta, di realizzare i suoi desideri. Yasmin ha concordato, affermando che per ora la musica e lo studio sono le sue priorità. E voi? Cosa pensate delle dichiarazioni di Yasmin e di suo padre Albano? Lasciate un commento e ricordate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Grazie di cuore.